Musica Benvenuti a Fatima Oggi, il nostro ospite è padre Paul Kramer, autore del libro Il mistero dell'iniquità. Benvenuto al nostro programma, padre. È un piacere essere qui, padre. In questo ciclo di puntate stiamo parlando del suo libro Il mistero dell'iniquità, che tratta della massoneria. Che cos'è esattamente la massoneria? Ritengo che si possa spiegare partendo dalle parole usate da San Paolo nella sua seconda lettera ai Tessalonicesi. San Paolo affermò che il mistero dell'iniquità è già in atto tra noi. Secolo dopo secolo abbiamo visto un attacco sistematico portato contro Dio, Gesù Cristo e la sua Chiesa. Nell'era moderna questo attacco è stato portato soprattutto da un'organizzazione denominata massoneria. Si tratta di un movimento antireligioso, in quanto si oppone all'idea stessa di un Dio trascendente. Padre Dennis Fahey, un sacerdote irlandese che ha lavorato presso il Sant'Uffizio negli anni 40, ha scritto diversi libri sulla massoneria e sulla rivolta contro Nostro Signore. Durante le lezioni ai suoi studenti, egli ripeteva continuamente che la massoneria è un nemico implacabile del Dio trascendente. In pratica, essa consiste in una sintesi di tutte le antiche religioni pagane e misteriche, una sorta di nuovo paganesimo politeista. Come sappiamo, grazie alle parole di San Paolo, tutti gli dèi dei pagani sono diavoli. I libri della massoneria insegnano a venerare il naturalismo sopra ogni cosa, e cioè un concetto di anima mundi, di anima del mondo. Per i massoni, Dio non ha creato l'universo, ma ne fa parte. Essi credono nel pantheon delle antiche divinità pagane, ma è solo ai livelli più alti che si scopre che la massoneria in realtà è un culto luciferino risalente all'antico Dio solo egizio. Solo ai più alti livelli si scopre che il loro Dio in realtà è Satana. Quindi possiamo ben affermare che la massoneria è in realtà una società religiosa ben organizzata. Hanno diversi gradi, se non erro, 33, ma potrebbero esservene molti di più, e a ciascuno di questi viene data solo una parte dell'intero insegnamento massonico. Tutto, ovviamente, viene fatto nel più massimo riservo e nella più assoluta segretezza. Al mondo danno questa immagine di fratellanza, segreta sì, ma pur sempre filantropica e dalle buone intenzioni, della quale non dobbiamo temere nulla. La massoneria si presenta come una fratellanza. Ad esempio, nella loggia del Grand Oriente, permettono tranquillamente agli atei di entrare nei propri ranghi. Uno dei grandi maestri, citati da padre Mumford Adler nel suo libro La rivoluzione anticristiana della massoneria, sostiene che il 90% dei massoni non sa che cosa sia veramente la massoneria. Ho letto un libro di una persona che si è convertita al cristianesimo dopo essere diventato un gran maestro massone di 33esimo grado. Costui spiegava che anche tra i gran maestri di 33esimo grado ve ne erano molti che non avevano ancora compreso i veri obiettivi e la vera natura della massoneria. Persino ai livelli più alti molti ignorano che cosa sia la massoneria. In tanti ritengono che i primi tre gradi della massoneria da volta definiti l'elogio blu siano sostanzialmente innocui perché non sono a conoscenza dei cosiddetti segreti misterici di quella fratellanza. Rimanere nei primi tre gradi della massoneria per avere opportunità di carriere e di contatti sarebbe tutto sommato una cosa innocua. Uno dei libri più importanti che siano mai stati scritti sulla massoneria è opera di un uomo di nome Albert Pike la massima autorità tra i massoni. Il suo libro è autorevole e presenta in modo ufficiale la dottrina della massoneria. Si legge che i primi tre gradi sono solo l'anticamera al tempio massonico. Saranno anche l'anticamera ma persino nel primo grado fanno giurare i confratelli che non tradiranno mai i segreti della massoneria altrimenti verrà loro recisa la gola da parte a parte. Beh, nel terzo grado sicuramente fanno un giuramento. Nel corso degli anni ho studiato tutti i giuramenti dei vari gradi ora non ricordo esattamente quale Sì padre ma a prescindere dal fatto che sia al primo o al terzo grado è gravissimo lo stesso perché non si può dare a nessuno il permesso di ucciderci. Ciò non di meno questi confratelli pronunciano quel giuramento e danno il permesso ai loro fratelli massoni di ucciderli tagliandogli la gola da parte a parte e distrappare loro la lingua. È proprio così. Pike spiega che soltanto al terzo grado si diventa veramente un maestro massone mentre nei primi due gradi in realtà si è soltanto degli apprendisti. È proprio come un ordine religioso con i suoi postulanti cioè quelle persone che chiedono di entrare a far parte dell'ordine. L'apprendista è come un novizio appena entrato è sottoposto a vari controlli e verifiche e diventa veramente massone solamente dopo essere passato attraverso il terzo grado quando egli assume il titolo di maestro massone. Chiunque voglia diventare un vero massone deve arrivare al terzo grado. Sì ma questo non vuol dire che siano comunque amici della Chiesa. Anche i teologi tedeschi tra i quali l'allora cardinale Ratzinger tra gli anni 80 e 90 quando erano impegnati in un dialogo con tutti proprio tutti pubblicarono un articolo sull'osservatore romano nel quale ribadivano come già i primi tre gradi della massoneria fossero anticristiani e contrari a Dio. Non vi può essere nessun rapporto tra la massoneria e la Chiesa cattolica. Beh nel momento in cui una persona entra a far parte anche del primo grado egli è diventato di fatto un iniziato di questi riti pagani e luciferini un atto che per sua stessa natura è totalmente opposto a Cristo e a Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Sì quindi la massoneria in realtà è una religione ed inanzi al mondo fa finta di essere inoffensiva si spaccia per una fratellanza innocua se non erro però in diversi processi hanno ammesso di essere una religione giusto? Nei loro stessi tribunali fu William Welland nel suo libro sulla cristianità e la massoneria americana ad aver citato per primo un documento di scomunica della loggia dell'Uruguay da parte della loggia londinese giusto? Sì la loggia madre londinese aveva scomunicato la grande loggia d'Uruguay perché aveva ammesso degli atei nel rito di iniziazione massonica come spiegava quel decreto la massoneria è una religione è un fatto quindi è una religione a tutti gli effetti i suoi membri vengono fatti entrare grazie a riti iniziatici e la massoneria esercita la propria autorità usando persino la scomunica ma non solo questa pseudo fratellanza questa religione dà il permesso ai propri confratelli di uccidere quei membri che abbiano contravenuto ad un ordine se la scomunica non è sufficiente possono arrivare persino ad uccidere lo scrittore che ho appena citato Albert Pike nel suo libro fondamentale sulla massoneria in pratica un vero e proprio testo guida per i massoni spiega che il loro obiettivo nel comunicare i misteri massonici ai vari gradi è più quello di nascondere e ingannare piuttosto che quello di rivelare ai livelli più bassi la massoneria pretende essere un'organizzazione filantropica e pia del tutto compatibile con le maggiori religioni mondiali che venerano un dio trascendente ma in realtà essa si oppone con tutte le proprie forze ed in modo implacabile all'idea stessa di un divino trascendente creatore del cielo e della terra spieghiamo cosa intende con trascendente e cioè un dio che sia al di fuori del creato esatto dio che ha creato il cielo e la terra dal nulla il concetto massonico di dio è invece quello di anima del mondo un principio immanentista per loro dio farebbe parte del mondo proprio come l'anima dell'uomo è unita al suo corpo formando l'organismo che chiamiamo essere umano in pratica i massoni considerano l'universo come il corpo ed il principio divino come la sua anima quella che gli antichi pagani definivano anima mundi cioè l'anima del mondo è questa l'essenza della massoneria ed è alla base del dualismo dei tempi antichi e del manicheismo dei primi secoli al quale persino sant'agostino aderì prima di convertirsi al cattolicesimo è un principio che è stato ripreso anche dall'eresia albigese nel medioevo ed è attualmente portato in auge dalla massoneria lei ha detto prima che la massoneria sarebbe la continuazione di quel mistero dell'iniquità di cui parlò san paolo e che consisterebbe nell'opposizione portata al dio trascendente creatore del cielo della terra a dio padre il quale inviò suo figlio tra gli uomini perché ci redimesse grazie alla sua morte avvenuta per noi sulla croce la massoneria malgrado permetta l'accesso ai propri ranghi ai fedeli di qualsiasi religione in realtà non fa altro che ingarnarli e tener loro celato finché non avranno avuto accesso agli ultimi gradi della massoneria il fatto che si tratta di una religione luciferina che venera satana e che rifiuta completamente la divinità di gesù cristo e l'autorità di dio padre figlio e spirito santo dominare il mondo è il loro obiettivo dichiarato come affermò albert pike domineremo sui padroni del mondo in molti loro scritti viene spesso ribadito lo scopo ultimo della massoneria ovvero quello di creare un unico governo mondiale grazie al quale potranno dominare il mondo intero e anche l'imposizione di una nuova religione mondiale un culto luciferino che rimpiazzerà la religione cattolica ed il culto nei confronti dell'unico vero dio qualsiasi religione che continuerà a venerare l'unico vero dio sarà dichiarata fuori legge noi sappiamo che il primo comandamento dato a dio a mosè vincola tutti i cristiani e quindi ovviamente tutti i cattolici a credere nell'unico vero dio io sono il signore dio tuo non avrai altri dei all'infuori di me il primo comandamento e quindi il più importante di tutti è quello di non venerare assolutamente altri dei non solo il demonio che non è certo un dio ma neanche tutti gli altri idoli dei pagani non possiamo e non dobbiamo adorare nessuno se non l'unico e vero dio onnipotente esattamente è il fondamento e il principio base della vera religione ed è per questo che fu il primo comandamento dato da dio a mosè nell'antico testamento noi possiamo adorare soltanto il vero dio creatore del cielo e della terra tutte le altre divinità sono solo falsi dei non hanno alcun diritto di chiamarsi dio ed è pertanto un abominio che la gente veneri gli dei di altre religioni tutte le altre divinità sono solo falsi dei non hanno alcun diritto di chiamarsi dio ed è quindi un abominio che la gente veneri gli dei di altre religioni la prima e più importante regola della religione ebraica durante l'antica alleanza mediata tra dio ed il suo popolo prescelto gli ebrei appunto era quella di venerare e adorare unicamente il vero dio questa esclusività di culto è alla base sia dell'antico sia del nuovo testamento ed il concetto stesso che si possano mischiare assieme le religioni pagane venerando negli dei e allo stesso tempo adorando l'unico vero dio è un abominio agli occhi del signore nel libro dell'apocalisse san giovanni parla di quel popolo che praticava questo tipo di paganesimo mischiandolo a volte con la religione ebraica a volte con la vera religione cristiana cioè la religione cattolica e di costoro san giovanni affermò che non erano ebrei anche se affermavano d'esserlo ma che al contrario essi erano la sinagoga di satana poiché erano diventati apostati e avevano abbandonato il culto esclusivo dell'unico vero dio usando mischiarlo a quello delle false divinità pagane è in assoluto il peggiore abominio che possa compiere un popolo e la sua proibizione nel primo comandamento dato a Mosè era al centro dell'antico testamento per molti secoli la stessa chiesa cattolica ha proibito un simile atto appena di scomunica certamente ma lo stesso Gesù quando gli chiesero qual è il più grande comandamento della legge rispose amerai il signore dio tuo con tutto il cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente questo è il primo più grande dei comandamenti per amare nostro signore ovviamente dobbiamo odiare ciò che egli odia e amare ciò che egli ama nostro signore ci ha detto che lucifero cioè satana l'angelo caduto il principe dell'odio è stato già giudicato ed è stato gettato negli inferi la sua sentenza è irrevocabile perché lucifero odia dio e lo odierà per sempre il diavolo non può cambiare mentalità o redimersi per questo motivo è stato giudicato ed inviato all'inferno per tutta l'eternità questo per spiegare che le persone che provano a mischiare le cose venerando dio e al contempo anche una divinità pagana che non è altro che un demonio in realtà non stanno amando dio con tutto il loro cuore con tutta la loro volontà dobbiamo rispettare pienamente il primo comandamento altrimenti potremmo perdere la nostra salvezza ora per tornare al libro di piche quella sorta di libro guida della massoneria volevo chiederle se secondo lei potremmo definirla una vera e propria antibibbia visto che la massoneria opera in nome del demonio questo testo è una sorta di bibbia diabolica per così dire direi che possiamo descrivere quel libro nel modo in cui è più conosciuto cioè come il testo ufficiale della massoneria in quanto ha ricevuto l'approvazione ufficiale dell'ordine massonico in questa sua opera pike spiegava che le sacre scritture della massoneria sono in realtà quel gruppo di testi conosciuti col nome di Kabbalah ed in particolare il libro della Zohar ora c'è chi ha definito questi libri come misticismo ebraico ma essi non hanno alcunché di ebraico quegli ebrei apostati che abbandonarono il culto esclusivo dell'unico vero Dio caddero nel paganesimo e mischiarono il bene col male la luce con l'oscurità in questa mostruosa combinazione sincretica di falsi culti una religione vera mischiata con una falsa non può che essere falsa come se Dio potesse in qualche modo di riunirsi a Satana si tratta di un concetto intrinsecamente assurdo è proprio il culto esclusivo verso Dio Onnipotente ad essere motivo di partenza per l'opposizione e l'odio che la massoneria nutre da sempre nei confronti della cristianità e della chiesa cattolica in particolare nel suo libro Pike inveisce e si fa beffe di quel rabbino ortodosso che continuava ad adorare l'unico vero Dio dell'antica alleanza così come di tutti quei cristiani che continuano il culto di Dio Padre Figlio e Spirito Santo che continuano ad adorare il Divin Salvatore Gesù Cristo in pratica ciò che odiano di più è proprio questa esclusività di culto per questo motivo durante i secoli si sono impegnati a promuovere una semplice facciata di cristianità quel che essi definiscono tolleranza religiosa ovvero il principio secondo cui i cattolici dovrebbero aprirsi a tutte le altre forme di cristianità e a tutte le altre religioni con l'auspicio che questa apertura possa portare ad una comunione tra tutte le religioni del mondo in pratica questi principi sono alla base dell'ecumenismo che nel corso degli anni ha avuto modo di penetrare all'interno delle chiese protestanti liberali e che dopo il concilio Vaticano II è penetrata persino all'interno della chiesa cattolica almeno da un punto di vista pratico se non proprio teorico alla base della dottrina massonica c'è quindi questa opposizione radicale al culto esclusivo nei confronti dell'unico vero Dio ecco quindi spiegato il loro odio nei confronti di tutto ciò che è definito dogmaticamente noi sappiamo che un dogma è vero perché proviene da Dio e sappiamo cosa significa proprio perché esiste una definizione dogmatica appunto cioè infallibile e immutabile la chiesa cattolica è l'unica vera chiesa proprio perché è definita dogmaticamente la massoneria si oppone a tutto questo perché non vogliono che i fedeli seguano chi insegna loro la verità non vogliono che la chiesa possa affermare con diritto che essa è l'unica vera chiesa vogliono rimpiazzare la vera chiesa cattolica con la loro religione e potrebbero riuscirci una volta che avranno instaurato nel mondo il nuovo ordine mondiale nel libro che ho menzionato all'inizio della puntata e cioè la rivoluzione anticristiana della massoneria padre Montford Adler cita alcune pubblicazioni massoniche nelle quali si promuoveva il concetto di libera cristianità ovvero una cristianità senza dogmi grazie a questo principio sarebbe consentito essere massone o amico della massoneria e nel contempo professare il credo in Gesù Cristo senza essere considerato una minaccia militante alla pace nel mondo ma questo solo se si rinuncia all'esclusività di quel culto solo se si rinuncia al principio che Cristo è re e signore di questo mondo e che tutti in cielo e in terra devono inchinarsi a lui ecco solo se si rinuncia all'idea che Gesù Cristo è il nostro salvatore e che non v'è salvezza se non in suo nome questi principi infatti sono invisi alla massoneria perché essa desidera riunire tutte le religioni in un'unica religione mondiale l'unica alla quale secondo loro gli uomini potrebbero concordare in realtà l'unico modo in cui tutti gli uomini potranno mai concordare su di un'unica religione è solamente attraverso il culto nei confronti dell'unico vero Dio mentre predicano la tolleranza tra le varie religioni in realtà agiscono contro l'esclusività di culto dei cristiani cioè vanno contro l'unica vera religione sulla quale tutti gli uomini potrebbero concordare lottano contro il culto verso l'unico vero Dio cercando di rimpiazzarlo con la loro falsa religione luciferina al posto del regno di Dio essi desiderano imporre all'umanità una tirannia diabolica possiedo un libro stampato nel 1821 si tratta di uno dei libri più segreti della massoneria che i non iniziati non dovrebbero mai leggere in qualche modo sono riuscito ad entrarne in possesso fu pubblicato a Yale nel 1821 in una delle illustrazioni di questo libro si vede un altare massonico ed un uomo seduto accanto ad esso con indosso dei paramenti sacri tipici di un vescovo è una rappresentazione perfetta di ciò che è la massoneria ovvero una controchiesa lo dicono essi stessi noi siamo la controchiesa la chiesa dell'eresia lo affermano tranquillamente nelle loro pubblicazioni nell'illustrazione di quel tempio massonico oltre a quello pseudo vescovo seduto accanto all'altare possiamo vedere delle finestre che però sono assolutamente vuote non v'è nulla raffigurato su di esse ora come sapete le vetrate delle grandi cattedrali cattoliche raffigurano scene di fede e i vari misteri della salvezza che vengono rappresentati in modo meraviglioso spesso sono delle vere e proprie opere d'arte invece nei templi di questa cristialità senza dogma nelle cattedrali di questa pseudo religione massonica quelle finestre sono bianche e questo perché essi credono nella negazione pagana direi quasi buddhistica di qualsiasi contenuto positivo in pratica costoro credono nel nulla senza un dogma che definisca una questione infatti è possibile contraddirsi all'infinito dire tutto e il contrario di tutto essi affermano che puoi essere un buon cattolico un buon ebreo un buon protestante anche se ti unisci a loro ti dicono che non c'è problema che sono compatibili con quelle religioni ma quando sali di rango ti fanno leggere altri documenti che contraddicono quelli precedenti i primi gradi pertanto non sanno di aver abbandonato la propria vera religione per venerare satano non sanno di aver escluso il vero dio e quindi di essere in pericolo di perdere la propria anima tra l'altro neanche tutti i grandi maestri del 33esimo grado sono a conoscenza di queste cose perché persino ad alcuni di loro viene celata la verità è vero alcuni di loro non sono a conoscenza della verità perché molti massori anche gran maestri di 33esimo grado non vengono giudicati idonei di ricevere i cosiddetti misteri dell'ordine e vengono lasciati all'oscuro tra l'altro queste persone fungono anche da perfetto meccanismo di mimetizzazione in quanto sono assolutamente innocue e non hanno alcuna idea di quale sia il vero scopo della massoneria in questo modo danno anche al mondo un'immagine serena di fratellanza inoffensiva sono persone innocue sia all'interno dell'ordine perché non sanno ciò che accade realmente sia all'esterno perché non possono rivelare alcun segreto importante e la gente al di fuori della massoneria vedendo queste persone è portata a considerarla come una fratellanza inoffensiva mentre in realtà continua a complottare guerre e rivoluzioni sono tutto tranne che innocui esatto perché sono dediti a rovesciare l'intero ordine sociale o meglio per usare una loro frasiologia a rovesciare i troni e gli altari purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per finire ma uno degli esempi di queste rivoluzioni è proprio quella francese che fu decisamente sanguinaria si è scoperto che Robespierre aveva intenzione di uccidere 10 milioni di francesi una crudeltà senza precedenti nella storia è questo ciò che realmente vuole la massoneria prendiamo poi un esempio più vicino a noi come la rivoluzione sovietica anch'essa voluta e finanziata dalla massoneria che ha portato alla morte di decine di milioni di persone ogni volta che la massoneria ha ottenuto il controllo totale di un paese hanno avuto inizio una tirannia sanguinosa e stermini di massa è il loro obiettivo dichiarato e lo hanno detto sin dall'inizio a pochi anni dalla fondazione ufficiale della massoneria avvenuta nel 1717 ma le loro radici affondano molto più lontano essa già affermava di voler ottenere una rivoluzione mondiale e per questo aveva dichiarato guerra contro la chiesa cattolica una guerra perpetua scatenata contro la chiesa cattolica e contro la razza umana esatto e continua ancora oggi i fedeli devono quindi comprendere cos'è realmente la massoneria l'umanità potrebbe subire la tirannia dell'anticristo predetta dalle sacre scritture siamo stati avvertiti e messi in guardia vi invito infine a leggere il libro di padre Kramer il mistero dell'iniquità perché esso rivela i contenuti di quella parte del terzo segreto che non è stata ancora pubblicata ricordatevi di recitare il rosario tutti i giorni che Dio vi benedica a leggere la Madonna di Fatima ha detto se le mie richieste non verranno esaudite la Russia diffonderà i suoi orrori in tutto il mondo provocando guerre e persecuzioni contro la chiesa i buoni saranno martirizzati il Santo Padre dovrà soffrire molto varie nazioni saranno annientate a leggere